Sono Massimo Bertmuller. Tema, la Pasqua. La Santa Pasqua. Ecche sia Pasqua. Già lo vedi, Nino. La tavola è infiorata, sana sana, d'Erba Santa Maria, menta romana, sarbia persa, viole e trosmarino. Già so' pronti dall'altra settimana dieci fiaschetti e un buon baril di vino. Già per grazia de Dio fuma er cammino, per celebrar sta festa alla cristiana. Cristo è risuscitato allegramente. In sta giornata non s'abbà di a spesa e non se pensi a guai un accidente. Brodetto, ova, salame, zuppa ingresa, carciofoli, granelli e rimanente. Tutto alla groglia della Santa Chiesa. L'ova e il salame. A ogni Pasqua che viè, proprio stusanza pare che so, che ma rieschi in ova. Non se fa colazione e non se pranza, si manca il piatto di salame e d'ova. Mica parlo però di osta viedanza, che si volete un gusto ce se trova. E quando non fu santro, la freganza cun salame può dar. Dove si trova? Io dico dell'usanza del costume di mannà sempre a coppia, ove salame. Questo è che io cerco che mi dassi un lume. Qualche giro c'è, se no ste dame, l'averebbero già mannata in fume. Mentre all'incontro n'hanno sempre fame.